Un Millwall che continua il suo campionato da vera protagonista, il primo gol molto bello è di McLeary. McLeary ha fatto un gol splendido, non ha colpito con grande violenza perché la palla era ancora alta, non poteva neppure farlo, ma con grandissima precisione Bisant non può farci assolutamente niente. Il 2-0 al 44esimo minuto prima del termine primo tempo è un autorete di McDonald's su tiro di Harlock. Autorete nettissima, anche in questo caso Bisant è spiazzato, non può farci assolutamente niente, l'autorete, il tiro di Harlock oltretutto era piuttosto facile da prendere. Qui invece vediamo il gol di Cascarino, bravissimo nel girarsi e nel tirare improvvisamente, forse Bisant non si aspettava un tiro così rapido e mi è apparso in ritardo in quest'azione. A un minuto dal termine fissa il punteggio sul 4-0 O'Callaghan che si incunea molto bene in aria e batte Bisant. Nulla da fare dunque per il portiere del Newcastle.